Il ricordo di un proprio caro non tramonta mai. Si cerca di avvertire sempre, anche dopo l'addio, la presenza di chi viene a mancare e di onorarne la memoria con una preghiera, con un fiore. Nel giorno di ogni Santi tanta gente nei cimiteri per far visita a chi è andato via lasciando un vuoto grande. A Campobasso la Polizia Municipale si è occupata di regolare il traffico vista la grande affluenza e come ogni anno, ma maggiormente ora, nel periodo Covid, l'attenzione ricade anche sui costi dei fiori. Secondo Coldiretti, per il settore florivivaistico duramente colpito come tutto l'agroalimentare dalla crisi pandemica, questo periodo rappresenta circa il 20% del fatturato. La produzione nazionale risulta però essere in contrazione e il comparto soffre per l'aumento dei costi energetici, dei fertilizzanti, delle plastiche e di tutti i fattori produttivi a monte e a valle della produzione in serra, dai trasporti ai vasi al confezionamento. L'aumento dei costi di produzione rischia quindi di affossare il reddito delle imprese e gli addetti ai lavori confermano le difficoltà del momento. Coldiretti chiede quindi di intervenire anche attraverso il PNRR per ridurre i costi energetici e della logistica e rendere il settore più competitivo. A rischio, avvertono dall'associazione, c'è il futuro di un settore chiave del Made in Italy che in campo nazionale interessa 27.000 imprese e circa 200.000 posti di lavoro. Si torna a lavorare, si riprende a lavorare però ci sta la crisi proprio enorme, enorme di tutto sia nel comprare nuovi commercianti sia nel popolo a acquistare che i soldi non girano, i soldi non ce ne stanno. Grazie.